Percorsi vittoriniani, di cosa si tratta? La nostra città vuole riappropriarsi la figura di Vittorini, intellettuale probabilmente bistrattato, un po' perché effettivamente Vittorini ha vissuto poco a Siracusa, però l'idea è quella di restituirlo alla sua cittadinanza siracusana, il che significa realizzare un percorso che vedrà appunto delle maioliche dei luoghi rappresentati nelle sue opere più importanti, che vedrà peraltro la mappatura delle biblioteche di Siracusa e la creazione di un link tanto sul sito dell'amministrazione quanto quello della scuola dell'Istituto Naudi, che racconti un po' gli aspetti salienti della città raccontata e vissuta da Vittorini. Giovedì quindi inaugureremo questa iniziativa con un convegno su Vittorini che lo vedrà raccontato da estimatori suoi concittadini e sarà proprio il modo per regalare alla città un itinerario nuovo, culturale, intellettuale, diverso, perché la città può prestarsi effettivamente a delle interpretazioni nuove.